E certo non ricordo quando mi hanno precondato i sorrisi di mio padre quando sono nato E certo io non scordo i pizzicotti di mia zia che arriva in tarci ora due calci E siamo come avete visto alla nostra rubrica suoni di Calabria, nostri ospiti in studio sono i folk and roll Ve li presento Mario, Gianfranco, Dino e Alberto, buongiorno e benvenuti Buongiorno Calabria Abbiamo visto un estratto del vostro video, il nome del vostro gruppo già dà un'idea del tipo di musica che proponete Ma come nasce il vostro progetto? Nasce nel 2009, infatti quest'anno possiamo farci gli auguri perché facciamo i nostri primi dieci anni Nasce con l'idea di accumulare le suonità Irish con quelle Calabria Almeno il progetto di ruota è questo, quindi iniziamo a fare anche uno studio antropologico Su come strumenti simili come possono essere la corna musa con la zampogna, il bodran col tamburello Terre così distanti ma così vicine Poi man mano negli anni sono cambiati i componenti Cambiando i componenti ognuno ci mette il suo stile, ognuno ci mette la sua verve Quindi ci andiamo a rocchizzare, andiamo a rocchizzare questo genere popolare, questo genere etno-irish popolare E siamo ancora tuttora in evoluzione Quindi vuol dire comunque che se per dieci anni siete rimasti, avete continuato a fare questa attività Evidentemente è un genere che piace, ma quali sono poi le caratteristiche del rock'n'roll di oggi rispetto a dieci anni fa? Le caratteristiche sono quelle di riuscire a rendere, snellire un genere forse anche un po' vecchio, forse anche un po' pesante Quindi renderlo con sonorità molto più moderne, sonorità che possono essere più riconoscibili Più riconoscibili da un pubblico degli anni 90, dove noi siamo un po' nati e fotori Come possono essere il parto delle nuvole pesanti, per parlare di gruppi calabresi O in Modena City Ramblers, la banda Bardot in Emilia Romagna e in Toscana Quindi praticamente l'idea è quella di rinfrescare, rinfrescare questo genere e riportarlo su sonorità sempre più vive, sempre più allegre Tra l'altro voi avete anche aperto alcuni concerti dei gruppi che ha citato Sì assolutamente, è stato un po' aprire il cassetto dove si ci mette un sogno E abbiamo aperto le serate ai Modena City Ramblers, alla banda Bardot E sono state delle esperienze molto formative Perché ci hanno messo a confronto con dei musicisti, degli esseri umani più che dei musicisti straordinari E poi forse la musica crea anche un po' le persone, nel senso che lo stile che si decide di suonare rappresenta un po' la personalità dei musicisti Sì assolutamente sì, siamo degli splendidi Irish Calabres Tra l'altro Irish lei oggi si è presentato con un kilt Non nascondo che quando me lo ha detto insomma temevo che potesse succedere qualcosa in studio Negli ultimi anni le sonorità etniche hanno conquistato, stanno conquistando sempre di più il pubblico C'è un desiderio di ritornare al passato? Assolutamente sì, il passato, prendere del passato le cose meravigliose per portarle avanti Noi abbiamo fatto un nostro primo disco che si chiama Punti di Svista In questo disco, proprio dal nome Punti di Svista perché portare l'immagine su quelle parti poco illuminate Quindi prendere i dettagli, i dettagli sono importanti così come i dettagli del passato Nel nostro singolo il signor Rossi parla proprio di questo Parla di un uomo banale, il signor Rossi con un cognome banale E invece nella sua vita è meravigliosa perché è unica Perché è un elemento unico al mondo, è un elemento unico nell'universo Quindi vale la pena di vivere, vale la pena di vivere al meglio ed essere meravigliosi E questo come prendere quella goccia del passato e portarla fino ad un futuro indefinito Rapidissimamente, prossimi progetti? Prossimi progetti abbiamo da fare un nuovo CD che uscirà probabilmente nel prossimo inverno E un singolo, probabilmente faremo il lancio del singolo quest'estate Perfetto, allora in bocca al lupo per tutto Grazie Grazie E noi andiamo avanti con la trasmissione Torniamo alle informazioni Mi ha raggiunto in studio Antonio Lopez Se provano per sapere Grazie 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 Grazie